Sapevi che nel caffè espresso lungo c'è molta più caffeina rispetto ad uno ristretto? Ti spiego perché. Molte volte il barista o il cliente di turno confonde l'intensità e la decisione di gusto con quella che è la quantità di caffeina presente all'interno della tazzina. Mi spiego meglio. Si pensa erroneamente che nel ristretto, dato che c'è maggiore acidità, densità, viscosità, ci sia quindi anche più caffeina. Rispetto ad un lungo, invece, che risulta molto più diluito, molto più amaro, meno concentrato. Beh, è esattamente il contrario. Durante la fase di estrazione, quando l'acqua passa attraverso il pannello caffè, più tempo rimangono a contatto questi due elementi, quindi acqua e caffè, più estraggo composti aromatici gustativi ma anche caffeina. Viceversa, nel caso del caffè ristretto, meno tempo di contatto acqua-caffè meno caffeina. Chiudo con questo consiglio. Se siete degli amanti degli espressi ristretti, ricordatevi che potrete berne qualcuno in più rispetto ai classici normali. Se invece siete gli amanti degli espressi lunghi, fatevelo fare normale dal barista, però fatevi dare dell'acqua calda a parte che poi andrete ad aggiungere successivamente. Grazie. Grazie.